Franco Carletta, il dato certo con le urne che ancora sono aperte, che è stato raggiunto il quorum, quindi si va verso il terzo mandato, quorum già raggiunto nella serata di domenica. Sì, io ringrazio i miei concittadini perché è stata veramente una bella, bella, bella emozione. Ieri una partecipazione attiva a seggio, già credo alle prime ore del pomeriggio, intorno alle 17-17.40, mi davano notizie che insomma avevamo superato il fatidico 41%. Per noi della lista Insieme per Controguerra è una riconferma, ma è una riconferma, una nuova emozione che ci ridanno i nostri concittadini e questa emozione io la prendo e ci dà l'infa ancora per andare avanti ancora cinque anni per fare bene per il nostro territorio. Diciamo una chiacchierata tranquilla con i miei consiglieri. Io ho sempre condiviso con loro tutto, durante la campagna elettorale, tutti gli incontri che abbiamo fatto, io li ho considerati e chiamati sempre i miei meravigliosi consiglieri ed amici. Quindi con loro stabiliremo come fare e come impostare nel nostro territorio tutto il discorso amministrativo per andare avanti.